Mi stai dicendo che puoi annusare le emozioni delle persone? Sì. Vergogna, senso di colpa, rabbia. Riesco a sentire tutto. Tu chi sei? Ci sono cose che devi ancora scoprire. Se ti senti diversa, è perché sei migliore di loro. Ho visto le fate che danzavano in questo posto. Come nelle favole. È da umano sentire queste cose. Non voglio più vivere come prima. Tu e io abbiamo un compito. Non voglio più vivere come prima. Non voglio più vivere come prima. Non voglio più vivere come prima.